È giusto che ci sia anche nella nostra città una piazza dedicata ai martiri di Nassiria, ma è soprattutto un luogo che oggi consegniamo alla città, consegniamo la parte bassa della città, che deve essere ancora completato perché al di là dei parcheggi, della sistemazione dell'aria, adesso voglio che in quest'area vengano anche installate delle panchine e altri servizi che possano essere utili ai cittadini che in questo luogo vorranno trascorrere il loro tempo. È stato detto grazie a chi per convenzione doveva realizzare quest'opera e finalmente l'ha realizzata. Da quando ci siamo noi, chi firma convenzioni con il comune poi realizza anche le opere. Abbiamo detto no da tanto tempo a quelle convenzioni scellerate che qualcun altro sottoscriveva, che prevedevano la realizzazione di giardini all'interno dei condomini che venivano venduti come standard urbanistici per la città. Adesso quest'area non è una pertinenza di un condominio, ma è un'area comunale che tutti potranno fruire.